In vista della riapertura delle scuole a settembre, presenza e sicurezza, il punto della situazione in Abruzzo dal coordinatore regionale per le vaccinazioni Maurizio Brucchi che evidenzia quanto già fatto pensando anche al futuro. Ma allora stiamo adesso, cominciamo a lavorare un po' sulle liste, sulla campagna di adesione che c'era stata per le scuole e stiamo verificando quali sono i docenti che non si sono vaccinati e cercheremo di ripartire da loro e poi vedremo qualche V-Day dedicato alla scuola, anche se io penso che l'Abruzzo sulla scuola ha fatto un buon lavoro, le percentuali, una percentuale alta, però è chiaro che c'è ancora qualcuno che si vuole vaccinare e noi siamo pronti a vaccinare.